Ciao piccio e benvenuti in questo special 300. Cosa facciamo in questo special? Vi facciamo vedere i nostri studios. Tutto quello che registriamo lo facciamo dietro questa porta. E compres... E dove cazzo sono quei due? Chiamiamo Albertorius. Pronto? Oh compa dove sei? Sto pescando perché? Come stai? Dobbiamo fare lo special 300 dov'è tocare oggi? Come cazzo oggi era? Sì. Eh mi dispiace lo sono scordato. Domani non si può fare. Vabbè ora chiamo Razzie e vediamo. Vabbè facciamo domani. Ciao. Vabbè io continuo a pescare. Ciao Lauriris. Ciao ciao. Pronto? Oh Razzie. Eh che c'è Lauriris? Intanto abbassa sta musica non sento niente. Un attimo. Fatto. Mi rilassa. Che c'è? Come che c'è? C'è lo special da fare oggi. Special 300 dove sei? Ma io sto nel laboratorio. Stavo coltivando la mia hobby. Perché vuoi dire? Prima Albertorius che va a pescare e tu che fai? Cioè non dobbiamo farlo oggi. Ma oggi era il giorno di relax e sto facendo una cosa importante. Vabbè il giorno di relax. C'era lo special del giorno di relax. Va bene ci vediamo domani però puntuale domani. Sì sì vabbè fa mettere in mano la musica. Ok ciao ciao. Ciao. Sì l'ho creato. È fatta sì il migliore del mondo. Bene va bene quel giorno è stata puttana e quindi questi sono gli studios da Banned. Spegniti buco di merda a spegniti. Spegniti buco di merda a spegniti. Addio Regi. Muori. Ciao. Sì. Ciao Lauriris. Ci vediamo domani. Bene Piccio. Forse la terza volta è quella buona. Vediamo questi studios. Mi stai minacciando? Dove cazzo sono i miei soldi? Dove è tuo figlio? Me lo sono mangiato ieri mattina. E tu che cazzo hai da guardare? Che cazzo ci guardi? Lauriris chiudi sta cazzo di porta. Subito. Ok ok. Ma ne vado. Ma ne vado. Ok ok ok. Va bene Piccio. Ci vediamo domani. Magari oggi te la facciamo domani eh. Ok. Ciao ciao. Bene Piccio. In quella stanza non ci entriamo più. Entriamo in questa e vediamo che succede. Lauriris. Lauriris. Cazzo non devo offrire lo special. Ma baffa. Dai Piccio che la quarta volta è quella giusta. Questi sono gli studios debanned. Non lo posso. Non lo posso. Non lo posso perdere. Non lo facevo più. Che sta facendo? Un po' è bellissimo. Razzi. Sì sì. Vieni qua c'è lo special da fare. Sì sì. Buongiorno. Dov'è? Sì vabbè non ti credo neanche se stai facendo. Dov'è Albertorius? Sto analizzando i dati. Non mi interessa. Dov'è Albertorius? No era in giro qua fuori. Lo trovi fuori? Come in giro? Vabbè andiamo a vedere va. E' andata a pisciare non lo so. Comunque io continuo. Chiudi la porta. Sì sì sto arrivando. Sto analizzando i dati in segreto. Dov'è quello? Ma che cazzo? Oh cazzo ho rotto la macchina. Porco demonio. Devo andare al meccanico. Reggi ve lo avvisi tu a Lauridis. Sì sì tranquillo ci penso io. Ok. Ciao. Ci vediamo domani eh. Ciao ciao ciao. Ciao. Bene piccio per questo special 300 è tutto. Volevo ringraziare in particolar modo Castoro Pazzo e Kronos per tutto il supporto che ci stanno dando. Siamo talmente tanto affezionati a loro che vorremmo abbracciarli tutti. Reggi no perché si spaventa degli uomini. Non lo so per cazzo. Via. Comunque vogliamo ringraziare in particolar modo tutte le persone che fanno parte del Banned e soprattutto te che stai guardando questo video. Metterai un mi piace, ti iscriverai, mi commenterai e continuerai a seguirci. E ti ringrazio veramente tantissimo per tutto il supporto che ci darai e ci stai dando. Detto questo ciao ciao. Ciao belli. Ciao.